Acciaierie d'Italia ha illustrato quindi ai sindacati interventi per 400 milioni. L'obiettivo immediato del piano di ripartenza è ripristinare le condizioni di normalità per gli impianti e creare una gestione ordinata che consenta all'azienda di tornare sicura per i lavoratori e attrattiva per i potenziali investitori. A presentare il documento il direttore Giuseppe Cavalli e il responsabile delle risorse umane Claudio Picucci. Nello stabilimento del capoluogo Ionico sarà attivo un treno di laminazione a caldo mentre tutto il laminato a freddo andrà a Genova raggiungendo dopo l'estate 450 mila tonnellate l'anno 600 mila tonnellate l'anno a Novi Ligure con una nostra postilla non secondaria. Area a caldo significa inquinamento e questo sarà tutto a Taranto. Diventa quindi importante a questo punto far emergere da parte del territorio la richiesta forte di un piano di abbattimento delle emissioni in atmosfera e non soltanto. sarebbe utile tallonare la nuova governance su un tema che non deve diventare secondario accanto al piano economico e finanziario e a quello della ripartenza. Ci attendiamo dunque un approfondito cronoprogramma sulle attività di ambientalizzazione degli impianti. Qualcuno potrà obiettare che questo piano è inserito in quello più dettagliato della stessa ripresa degli impianti. La risposta è che in questo territorio abbiamo già pagato il costo delle ovvietà e sulla testa dei tarantini si sono fatte scelte che come minimo potevano essere messe in dubbio, discusse, magari trasformate. Oggi, se davvero si cambia registro, il tema ambientale neanche per un secondo dovrà passare in secondo piano. con buona pace di tutti. Intanto Giuseppe Cavalli, direttore generale di Acciaieria d'Italia, dice è necessario coinvolgere i lavoratori, dando visibilità nei prossimi passi, rendendoli partecipi del piano di ripartenza e trasmettendo loro e alle loro famiglie sicurezza e fiducia. Sarà proprio questo l'aspetto centrale che potrà essere apprezzato dai potenziali acquirenti. Grazie a tutti.